Buongiorno a tutti e a tutte e grazie mille per il vostro invito. Sono molto dispiaciuta di non partecipare personalmente a questo vostro congresso nazionale, ma ringrazio veramente di cuore il Presidente Vincenzo Manco per avermi dato la possibilità di portare a tutti voi il mio saluto e di essere comunque con voi attraverso questo video messaggio. Il tema dello sport e della sua capacità e potenzialità di rimuovere gli stereotipi è per me cruciale. Lo sport può essere veramente luogo ed esperienza di prossimità, contesto nel quale attivare processi profondi di ugualianza e di lotta alla discriminazione. Qualche settimana fa sono stata in Sudafrica e mi è venuta in mente la grande lezione di Nelson Mandela. Un uomo che ha promosso profonde battaglie per l'uguaglianza, un uomo che ha rappresentato e rappresenta la lotta di intere generazioni contro il rassismo. Voglio ricorrere proprio alle sue parole, alle parole di Nelson Mandela per ricordare il ruolo che lo sport può avere nel promuovere la parità di diritti e di possibilità. Lo sport, dice Mandela, ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di suscitare emozioni, ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla i giovani in un linguaggio che capiscono. Ho voluto ricordare le parole di Mandela perché è come lui che lo sport possa essere, prima di tutto, un importante strumento di educazione e di formazione. Una formazione diffusa che può coinvolgere e mettere in rete una pluralità di attori che può permettere di fare squadra e di giocare tutti insieme, giocare tutti per la costruzione di una cultura dell'uguaglianza e anche dell'antidiscriminazione. Per usare ancora una volta parole di Mandela, lo sport può essere veramente e può contribuire veramente a cambiare il mondo. Alla vigilia dell'anniversario dei trattati di Roma, voglio anche ricordare che lo sport e la non discriminazione sono politiche importanti per l'Europa. Certo, un'Europa in difficoltà, ma anche un'Europa convinta di poter contribuire a ridare slancio ai paesi che lo compongono, di poter partecipare alla ricerca di una nuova stabilità a livello mondiale. È necessario rilanciare sempre di più il ruolo dell'Unione Europea, un ruolo positivo in tutte le politiche vitali per il benessere delle persone, a partire dallo sport, inteso sia come luogo di salute, sia come strumento ineguagliabile per affermare il valore di una società, in cui ogni persona ha pari dignità, qualunque sia la sua identità. Da questo punto di vista, l'Europa mette anche in campo importanti strumenti. Penso al programma Erasmus+, il programma che è simbolo dell'Europa, dove quest'anno è stato inserito per la prima volta una specificazione dedicata allo sport. E penso che tutte queste esperienze ci possano insegnare a capire come lo sport all'interno della nostra Unione sia uno strumento molto importante. E vi ringrazio ancora per l'opportunità che mi avete dato e soprattutto per l'importante lavoro che ogni giorno, giorno dopo giorno, portate avanti per costruire un'Europa sempre più solidale e giusta. Un saluto a tutti e grazie ancora e buon lavoro.